Cambio di programma A causa del tempo, siccome da quando siamo partiti abbiamo fatto 3 ore di pioggia e Brunello non ce la faceva più, noi nemmeno visto che eravamo completamente bagnati Questo? Ok, lo apro Ci stanno smontando il motorino Ok Brunello, ciao Ok, proprio tutto tutto Adesso ci succheranno tutta la benzina perché poi Brunello andrà messo là sotto Ehi, Italia Roma 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 Di qua bacchia Di qua Ok, chiave Ciao Brunello, ci vediamo domattina Ciao Brunello, ci vediamo domattina Ehi, ciao Brunello Ciao Brunello, ciao Brunello Ciao Brunello Ciao Brunello Ciao Brunello Buongiorno, sono lei. Quattro e un quarto, siccome siamo in una stanza condivisa, stamani andiamo a fare colazione all'aperto. Siamo passati dal supermercato ieri, abbiamo preso giusto qualche ammazzo, sono delle specie di brioche lunghe e siccome era una cioccolata Nicola ha deciso di comprarne ben quattro più uno al nuovo, è una specie di pan gocciola. Questa è la signora che ci accompagnerà in barca fino al mercato. Ma soprattutto perché quel signore ha voluto che portassimo a tutti i costi il casco? Sto togliendo l'ancoraggio. C'è una cosa che qua in Asia, in Vietnam, non hanno proprio questo rapporto con l'ecologia e il non inquinare, gli manca. Ok, prima tentativa non è andata. Ok, prima tentativa non è andata. Ah ok, c'è l'acqua qui. Ecco perché mi ha potuto mettere il casco, tranquillamente. E' un bar in mezzo al fiume, questa è una casa in mezzo al fiume. Buono! Un misto tra pico, banana e pico. Wow, è un frullato! Siamo tornati dal mercato galleggiante e mentre aspettiamo la colazione giochiamo un pochino a biliardo. Siamo dei veri professionisti. La zuppa per colazione è pronta. Ci rimettiamo in marcia per un posto molto più dolce. C'è un pochino. Mi nome è Ben. Ben. Mi sono un uomo. Mi sono 69 anni. Mi sono un uomo. Mi sembra più piccola. Mi ricorda sempre più piccola, quindi mi ricorda più piccola. Questo è il mio futuro. C'è un uomo. C'è un uomo ogni giorno. C'è un uomo. Un uomo. E' un uomo. E' il rosa. Un uomo. I'acqua dell'acqua. Un uomo. E' un uomo. Un uomo. Un uomo. C'è il bianco, c'è circa 30 bianco, 30 bianco in una città. Vedete il bianco, il bianco, il bianco, si può fare il bianco. C'è il bianco, non c'è il bianco. Abbiamo deciso di provarne una calda, che è questa, e una col ghiaccio. E poi abbiamo dei quadratini di cioccolato. Non ho parole, è cioccolata. Finalmente, dopo quanto tempo qua in Asia, che buono. Madonna, fu puro, cioccolato, spettacolare. Questo è il senso della vita, la cioccolata. Perché sono solo? Perché sono solo su una bicicletta. E la triste storia come Brunello è stato sequestrato da un meccanico. Brunello ha deciso di fermarsi, ma adesso l'ha aggiustato. Dopo questa breve ma intensa sosta, ripartiamo. Un giro a un metro, è il momento. Ed eccoci qua, alla fine di questo viaggio. Fra isole dal sole cocente, città trafficate, sentieri polverosi che attraversano la campagna. Fino ad arrivare in cima ad una montagna fra le nuvole, dove a farci compagnia c'erano solo farfalle, uccellini e grandi banani. Oppure passando in mezzo a fiumi che attraversavano un sentiero roccioso. Con Brunello non ci siamo mai annoiati. E in questo modo abbiamo scoperto una libertà mai provata prima. E questo Vietnam da mozzare il fiato. Non so se si legge, ma lassù c'è scritto Vietnam. E dall'altra parte cosa c'è? In Cambogia. Brunello è stato un caro amico, non ci dobbiamo dire addio. No. Brunello ci accompagnerà anche in Cambogia. Ormai è il nostro amico di Maracanã e soffrirà le pene insieme a noi. Andiamo di là. Ci vediamo dopo. Ricordati Jackie. Petro, Nicole. Molto bravo. Mi piace il tourista, mi piace molto. Ricordati. In la Jackie. Perfetto. Eccociato. Ricordati.